La presentazione del rapporto annuale Istat nella storica cornice nella Biblioteca Comunale di Terni alla presenza del Presidente Professor Blangiardo è stata l'occasione per incontrare ragazze nelle scuole superiori del territorio e per illustrare loro utilizzando un approccio quantitativo i principali temi sociali ed economici che caratterizzano il nostro Paese. L'attenzione dei ragazzi è stata massima durante l'attività ludica di somministrazione di un questionario tramite lo smartphone volto a verificare il loro livello di comprensione dei temi trattati. Il sistema di premiazione ha ricevuto una alta curiosità in quanto è stato premiato il più bravo e veloce ma hanno ricevuto un premio anche i tre ragazzi corrispondenti e quartieri della distribuzione. Un concetto statistico che molto probabilmente non conoscevano ma che sicuramente rimarrà impresso nella memoria loro e degli altri partecipanti alla giornata.